Torre speciale elezioni, appuntamento attesissimo, il faccia a faccia tra gli aspiranti sindaco di Cagliari, Massimo Zedda e Massimo Fantola. Grazie per essere con noi a tutti e due stasera, un appuntamento importante, siamo quasi alla fine della campagna elettorale, avremo modo in presa diretta senza mediazione di conoscere meglio i due candidati e soprattutto di conoscere il loro programma. Ma intanto dalla regia, Luisana Pala può subito proporre la scheda riepilogativa, vediamo come è andata al primo turno, in vantaggio Massimo Zedda col 45,15% a ruota, distanziato di poche centinaia di voti e di un qualche 0, Massimo Fantola, 44,71%, insomma una bella lotta in questo secondo tempo, visto il risultato del primo, rapidamente vi introduco, vi presento i nostri ospiti a partire da Massimo Zedda, Cagliaritano, 35 anni, maturità classica, studi universitari in giurisprudenza, la laurea sta per arrivare per Massimo Zedda, consigliere comunale, consigliere regionale, consigliere di Ecologia e Libertà, ho fatto quei piccoli lavori che oggi sono definiti precari, c'è scritto nel suo sito, dove ancora si legge politica a scuole e all'università, come presidente di associazioni culturali e come segretario cittadino della sinistra giovanile, come militante nel PDS e nei DS, oggi con SEL, perché credo nel rinnovamento della politica e della società intera. Massimo Fantola, 63 anni mi pare ad agosto, è ingegnere trasportista ed è docente universitario, è stato consigliere comunale, consigliere regionale per due legislature ed è stato anche in Parlamento come senatore. leader per due anni, per due anni, leader dei riformatori sardi, è stato tra i principali promotori del referendum elettorale al fianco di Mario Segni. Allora, ci sarà un countdown di 100 secondi per gestire le risposte dei nostri ospiti, con un avvisatore a meno 10 e un gong al termine del countdown, del conto alla rovescia, l'estrazione. Abbiamo una monetina da 20 centesimi, testa o croce, come si fa nelle partite di calcio? Facciamo scegliere, testa o croce? La cifra. La cifra. Allora, la cifra, se dovesse venire fuori la cifra, inizierà Zedda e concluderà Fantola. Da casa non so se si veda, ma l'importante è che lo vedano i nostri ospiti. Io ci provo, non ho mai fatto l'arbitro, vediamo un po' cosa succede. Allora, la cifra, la cifra. Inizia Massimo Zedda. Allora, partiamo da un'analisi del voto, Zedda. Lei è davanti, anche se di qualche zero virgola, però è davanti, se l'aspettava? Sì, dai segnali, dal fatto che tanti cittadini abbiano sostenuto la mia candidatura in modo disinteressato, persino venendo a prendere il materiale nelle nostre sedi. In questo senso era palpabile nella città la possibilità di affermazione avanti, rispetto al centro-destra, al primo turno. Adesso c'è il ballottaggio, è un'altra fase, non ci sono le liste, non ci sono i candidati dei partiti, ci sono due candidati alla carica di sindaco e due programmi. E ai cittadini scegliere i migliori programmi, il miglior candidato per guidare Cagliari. Devo dire che in corso d'opera, dalle primarie in poi, e poi nella fase del ballottaggio, è crescente, fino alla dimostrazione dell'altro giorno in Piazza del Carmine, con migliaia e migliaia di cittadini, di giovani in particolar modo, l'ansia e bisogno di rinnovamento nella città e di cambiamento. Quindi è abbastanza soddisfatto a questo primo turno? Sì, molto, sì. Per me è una soddisfazione il fatto di essere arrivato a superare le primarie, essere candidato da un'intera coalizione, tutto unito, il centro-sinistra, candidato come sindaco e poi sento il peso delle responsabilità per quanto riguarda la possibile vittoria e quindi la guida per cinque anni del Comune di Cagliari. Ritiene sia da sia un vantaggio partire con quel punticino in più, quello zero virgola in più o è stata un'altra partita questa seconda fase della campagna elettorale? No, ritengo sia un vantaggio. Un vantaggio perché è servito anche a suscitare entusiasmi, passioni ulteriori rispetto a quelle che già c'erano nel primo turno, nella prima fase, che probabilmente sfoceranno un voto e un buon esito lunedì. Grazie, grazie Zedda. Stessa domanda a Massimo Fantola. Lei parte svantaggiato, arriva secondo al primo turno o se l'aspettava? Io non aspettavo, francamente, il grande successo delle liste del centro-destra. Io non me l'aspettavo un successo così forte. Mi dicevano che si respirava in città un'aria di disaffezione verso le amministrazioni comunali, oggettivamente. Questo voto ha dimostrato che l'amministrazione comunale è stata premiata, ha vinto. I cittadini di Cagliari hanno dato la maggioranza dei voti alle liste che rispondevano ai partiti che avevano governato la città negli ultimi cinque anni. Io questo non me l'aspettavo. È vero quello che dice l'onorevole Zedda, che il secondo turno è tutta un'altra cosa, non è un secondo tempo di una stessa partita. Nella prima partita, nel prima del ballottaggio, si vota contro, questo lo dice tutta la letteratura soprattutto francese che sono particolarmente ferrati in questo campo, al ballottaggio si vota per, si vota per un candidato, per un programma e per un insieme, secondo me, di valori, di ideali che stanno intorno al candidato e al programma. Quindi è una partita che parte da zero, sulla quale io devo dire ho visto un crescente interesse proprio intorno alla fase del ballottaggio, un crescente interesse di cittadini, di movimenti, di associazioni, di gruppi, di persone che nella prima parte della campagna elettorale non ho mai visto. Devo dire che questo suscita in me una grande voglia di dare una risposta, una risposta positiva e di essere sempre in prima fila. Questo per me è stato molto importante. Proprio sul filo del Gong, all'intervento di Fantola, c'è un tesoretto di voti, Zedda è andato al primo turno ad altri sette candidati a sindaco, ma non ci sono stati apparentamenti? No, nessun apparentamento, anche perché Fli, Inizio Artizio, per primo ha dichiarato di non voler lasciare libertà di voto, nonostante abbia lasciato intendere di preferire, soprattutto tramite Matteo Sanna, consigliere regionale, l'esponente di Fli, me al senatore Fantola. Ma al di là di quello non c'è un apparentamento con altre liste, non c'è stato, il centro sinistra si presentava fin dal primo turno unito, a differenza del centro-destra. I movimenti dipendentisti hanno dichiarato di voler rimanere, come dire, strani agli accordi con i partiti nazionali che comunque noi rappresentiamo, che sostengono noi, il tema è come raccogliere i voti di coloro che appunto sono cittadini cagliaritani, hanno votato per quei candidati e per quelle liste e condividono diversi aspetti del programma, dai programmi circa la lingua Sarda, agli interventi contro il nucleare, ai temi della smilitarizzazione e della restituzione alla città e ai cittadini delle aree in fase di dismissione, militari, insomma tutti i temi che interessano sicuramente anche l'elettorato sia indipendentista che legato a Fli. Abbiamo ancora qualche secondo, Matteo Sanna cosa ha detto? Matteo Sanna ha detto, ovviamente non impegnando il partito e gli elettori, ha detto io se fossi cagliaritano voterei Massimo Zedda, ma è un giovane consigliere regionale, abbiamo un'ottima rapporto. Artizio ha detto, noi abbiamo un'estrazione di destra e a destra rimangono. Sì, a destra rimangono, ma in questo caso non si sceglie la destra e la sinistra, si sceglie un sindaco, un programma per il futuro della città. Grazie Zedda, Fantola, subito da lei. C'è un tesoretto, abbiamo detto, di voti che nel primo turno è andato ai vostri sette competitor, adesso siete rimasti in due, eravate nove. Si guarda ovviamente anche a quei voti, ma non ci sono stati apparentemente. Guardi, il candidato sindaco deve chiedere i voti a tutti i cagliaritani, deve chiedere i voti per se stesso e sul programma, sul programma e sulla capacità che dimostra di tradurre questo programma in fatti concreti di governo, quindi l'alleanza è tra il candidato sindaco e i suoi concittadini. Esiste poi il problema di Fli, perché se non lo diciamo ci prendiamo in giro. Fli non ha fatto l'accordo con noi per motivi di politica nazionale, la politica locale non c'entra niente. Cagli è una grande città ed essendo una grande città fa prima la politica nazionale su quella locale. Artizio aveva già dichiarato che avrebbe votato volentieri e fatto l'alleanza con me, avevamo già parlato del programma, avevamo già un accordo sul programma. nonostante tutto il mio impegno non siamo riusciti a superare i vincoli romani. Nella prima fase Fli ha detto noi siamo la vera destra, ora al ballottaggio devono decidere perché il candidato votare. Io non sono in grado di interpretare il voto degli elettori del Fli, ma mi sembra strano che gli elettori del Fli che vogliono essere la destra a destra votino un candidato che rappresenta la sinistra a sinistra che i rappresentanti della destra dei Fli possano votare un candidato che è sponsorizzato, non voglio usare un termine sponsorizzato, da D'Alema che rappresenta veramente l'antipodi dei valori, del modo di pensare del Fli. Questa mi sembra che sia una ragione in più di ragionamento per pensare che gli elettori dei Fli dieva il voto a me piuttosto che a mio collega. Grazie Fantola. Allora calata di big come per sintesi giornalistica usiamo dire per Massimo Zedda, decisamente meno per Fantola, oggi Enrico Letta, ieri c'era il suo segretario nazionale, è venuto D'Alema, è venuto Bersani, insomma un buon sostegno Zedda. Sì, un sostegno forte, convinto anche perché ci si crede, ci si crede nella possibilità di vittoria non solo a Cagliari, a Milano, a Napoli, in altre realtà d'Italia come segnale politico, è inutile negarlo che la vittoria, l'affermazione di Pisapia davanti alla Moratti, l'affermazione del centro-sinistra nelle città dove si va a votare è anche un segnale politico, si discute delle città, dei problemi della città, si discute anche di quanto nelle grandi città il voto d'opinione si stia spostando. Tanti leader, anche per smentire quel messaggio che passava che il Partito Democratico non stesse sostenendo con forza la mia candidatura, il Partito Democratico è andato bene, nonostante io sia un esponente di un altro partito, è andata bene la coalizione, i voti che ho preso io in più comunque si sono sommati a quelli della coalizione, altrimenti non sarei davanti al senatore Fantola, credo che in quella direzione ci siano delle buone, ottime possibilità per raccogliere quei voti e anche qualche voto in più rispetto al primo turno. Quindi un valore aggiunto alla presenza dei... Un valore aggiunto, sì, ma tenendo conto che sono venuti per me tanti leader, ma sono venuti ministri per il senatore Fantola, quindi non è che sia diverso il peso degli esponenti politici e poi io capisco possa irritare la presenza di leader che hanno dato alcune sferzate al centrodestra nazionale e locale, ma gli esponenti del centrodestra sono venuti, sono venuti addirittura ministri in carica a sostenere la candidatura di Fantola e lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri oggi lancia appelli in tutte le reti a sostegno del candidato a centrodestra. Allora, Fantola ha già sentito la domanda, tanti leader di partito per Massimo Zedda, qualche ministro per Fantola, non tanti leader del centrodestra per lei. Assolutamente noi abbiamo una coalizione che è tutto particolare, ha una sua specificità, nella nostra coalizione c'è un partito di governo che è il PDL e c'è un partito di opposizione che è l'UDC, poi ci sono una molteplicità di partiti autonomistici sardi e con tutto il rispetto per i partiti nazionali e sardi, io do grande importanza alle liste civiche perché esprimono una fetta di opinioni pubblica che non si ritrova nei partiti, quindi una coalizione che ha le sue specificità. Detto questo, io non ho niente da aggiungere sulle cose che ho detto già in precedenza, sull'opportunità che vengono… Però le ripeto perché è importante che chi segue ora a videolina le senti… Ah sì, io ho semplicemente detto, e glielo dico con franchezza, che secondo il mio punto di vista nel ballottaggio i personaggi politici, gli uomini politici, i romani farebbero meglio stare a casa loro, perché il ballottaggio è, lo dicevamo prima, un rapporto diretto tra il sindaco e il suo retratto, oppure tra i candidati sindaci. Nel ballottaggio io vado a parlare alla gente e cerco di spiegare loro, se sono capaci, come Cagliari può crescere col turismo, o cerco di parlare con loro dei marciapiedi di Viale Merello, a volte vado nella marina e dico e ho discusso più volte sulla necessità dei servizi igienici, come porre i servizi igienici a Cagliari. Credo che questi siano i temi di un ballottaggio, un rapporto diretto tra il sindaco e il proprio elettorato. Personalmente non mi piace che venga, adesso cito D'Aleima, perché poi la polimica è lì, e che invece di parlare di Cagliari, fortunatamente non ne parla perché non conosce Cagliari, si mette a polimizzare con casini o con segni che mi entrano a che vedere con questa partita elettorale. E ora entriamo nel merito del programma, che è la cosa forse più importante per capire chi scegliere tra Zedda e Filippo.